Recuperare l'alpeggio, restaurare gli edifici storici della casera, riattivare la produzione casearia, in poche parole riportare la malga di Monte Fontana Secca, situata sul massiccio del Grappa, al suo antico splendore. Questo l'intento del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano e Amministrazione Comunale di Quero Vass, grazie ad un finanziamento di un milione di euro proveniente dal Fondo Comuni Confinanti, un gioiellino di storia, tradizione e cultura sviluppato su 150 ettari di pascolo d'alta quota e bosco, donati al FAI nel 2015 da Liliana e Bruno Collavo. È uno dei luoghi a cui la comunità è molto legata, poi l'alpeggio ha sempre rappresentato un'economia importante nella storia della nostra comunità, fino all'abbandono. Poi apparteneva una femiglia querese che l'ha donato al FAI, da cui è nata poi tutta questa progettualità. Ma le vicissitudini, sia da un punto di vista imperitoriale, ma anche di tutta la storia che c'è stata durante la guerra intorno a quel monte, ha ovviamente un impatto importantissimo nel nostro territorio e sulle persone che ci vivono. Al centro del progetto di recupero la funzione educativa legata alle tradizioni di un tempo. L'Italia più viva, più vivace, più forte, più produttiva, più vivifica, è proprio questa, delle montagne, dei luoghi, dei luoghi colinari, dei luoghi ai quali non pensiamo abbastanza. L'Italia che ha visto questi pascole meravigliosi, queste montagne calcate da giovani che hanno perso la vita per creare oggi il paese libero dove siamo durante la prima guerra mondiale. Una storia meravigliosa che ci è stata proposta dai fratelli Collavo, che hanno donato al FAI 150 ettari di pascole abbandonate e che stiamo rivivificando tutti insieme. Coinvolti nell'iniziativa per un progetto di complessivi 2 milioni e 500 mila euro, anche le fondazioni SAME e Cariverona per aspetti di carattere scientifico, di ricerca e sviluppo. Ha sposato questo progetto i fondi comuni di confine perché c'è soprattutto la voglia dell'attaccamento al territorio.